Proseguono i lavori sulla statale lariana dopo gli smottamenti che hanno interessato il versante della montagna in località Ponte del Diavolo al confine tra Bellagio e Lezzeno e la strada dovrebbe riaprire venerdì a senso unico alternato. Oggi hanno effettuato un sopralluogo al cantiere il presidente della provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca, il dirigente dei lavori pubblici della provincia, Bruno Tarantola, l'assessore regionale agli enti locali, montagne e piccoli comuni Massimo Sertori e il sindaco di Lezzeno, Maurizio Boleso. Come da ordinanza apriremo venerdì alle 17.30. Stiamo lavorando continuamente per cercare, se possibile, anche di guadagnare qualche ora, però per fare un lavoro in sicurezza è veloce e meglio comunque tenere per venerdì. Noi fin dall'insediamento della regione abbiamo sostenuto le province, anche economicamente, probabilmente l'unica regione in Italia o una delle poche che l'ha fatto e qui c'è la testimonianza effettiva che le province hanno la necessità di risorse, di soldi. Recentemente abbiamo contribuito, abbiamo dato 400 milioni di euro ai comuni e alle province per fare dei lavori, degli interventi, perché le strade provinciali sono gestite appunto dalle province e quindi diventa fondamentale poterle mantenere. In questi giorni si è cercato di limitare i disagi per i residenti della zona attraverso dei collegamenti alternativi. Con un bus navetta, in pratica porta gli utenti all'inizio della frana, poi in sicurezza li vengono trasportati dall'altra parte a piedi e collegati con Bellagio. È stato messo anche una fermata in più della riscafa a partire da oggi, sicuramente non è stato facile, ma grazie anche alla ditta che lavora sul posto, come ha detto l'assessore, siamo riusciti a contenere i disagi della frana. Il tratto di strada resta dunque per ora chiuso al traffico e dovrebbe riaprire, come detto venerdì, al termine dei lavori di pulizia e messa in sicurezza della parete rocciosa.